buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il numero 2 del trimestrale lobby della scienza della tecnica il museo michelangelo a caserta diatomei meraviglia al microscopio le succulente sfida della natura le aberrazioni delle lenti i diodi led meteore meteoriti e meteoriti gli accessori del primo microscopio il microscopio biologico la miniera di monteponi il diorama prime nozioni di modellismo il cielo d'estate lobby della scienza della tecnica trimestrale divulgazione scientifica la scienza e la tecnica in mostra una rivista alla portata di tutti appassionati e curiosi alcuni dei temi dei temi trattati mineralogia microscopia didattica ottica science center modellismo scienze naturali piccolo collezionismo astronomia e tanto altro ancora buona visione e buona lettura vi aspettiamo per il prossimo nostro video grazie 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 grazie